Un calcio al pallone, un calcio alla leucemia. Sarà questo uno degli obiettivi nel quattrodicesimo appuntamento con i campionati dilettantistici. Molte fra le formazioni della nostra provincia, infatti, in questo ennesimo weekend calcistico, scenderanno in campo per sostenere l'Associazione Siciliana per la lotta alla leucemia. Un'iniziativa davvero lodevole, così come altrettanto ammirevole, sarà il contributo della Ciappazzi, che in occasione del match di domani, sabato 7 dicembre, contro la Pistonina, devolverà l'intero in cassa alla Onlus. Il calcio d'inizio alle ore 15 sarà dato dal contraffatto di Catania. Giornata d'anticipo anche in casa Villafranca, che sotto la supervisione del signor Piscitello di Trapani, ospiterà il Castelbuono di Ciccionardi. Quattordicesima fatica stagionale anche per le messinesi impegnate nel campionato di eccellenza. A partire dalle ore 14.30, primo match sarà quello tra Tiger, Brollo e San Gregorio. Tigrotti, che malgrado le numerose assenze, saranno costretti a riconquistare i tre punti per non perdere di vista la vetta. Arbitrerà l'incontro lo bello di Agrigento. Infine, impegno esterno del Mazzara, che sarà ospitato dall'ostico Mister Bianco, dirige Iapichino di Siracusa.